buonasera ho finito il pane come facciamo veloce in padella vediamo siamo questo pane che ci riesce 300 grammi di farina 150 grammi di acqua 8 grammi di lievito 3 cucchiai di olio sale non c'è ma di bastare ecco qua lo dividiamo in cinque parti un po' lo stendiamo prendiamo questa qua un po' lo girata un po' lo girata un po' il vino allora io l'ho preso una ho fatto con origano Sale e olio. Sì, può fare anche semplicemente senza condimenti.